Allora, ha reso conto dei 200 video, siamo arrivati a questo punto So anche che strano due vlog, uno dopo l'altro, back to back Però, pazienza, i resoconti arrivano quando devono arrivare Siamo al momento della registrazione al 19 settembre Quindi i dati sono aggiornati al 19 settembre Chiaramente questo video uscirà lo 2 ottobre Quindi ci saranno un po' migliorati, però vabbè, li spero Li tengo così Allora, l'ultimo resoconto Allora, innanzitutto diamo gli iscritti Per ogni 50 video che faccio Dico, ok, più di così non salgo Cioè, ho visto che sono salito tanto, non salgo così tanto adesso Invece ho più che raddoppiato gli iscritti Perché passiamo da 278 a 592 Eh, sì Siamo verso i 600 E se continua di sto passo Io a fine anno arrivo alla monetizzazione Se continua di sto passo Mo Fino a volte ho stato negativo Mi è andata bene Adesso non voglio essere positivo Altrimenti mi va male Top 5 video Qua c'è stato un cambiamento Importante Perché è sparito Sirius Sam 4 Update 1.08 Che c'era 1542 visualizzazioni È sparito dalla Top 5 Era al quarto posto, tra l'altro E invece adesso al quinto posto abbiamo una new entry Terraria Master Summon L'episodio 3 Con 2330 visualizzazioni E la seconda puntata è salita dal quinto posto al quarto Con 3030 visualizzazioni Con un incremento di 1682 rispetto a prima Quindi in poche parole è più che raddoppiato Cioè è leggermente di più del doppio E soprattutto l'episodio 1 di Terraria E qua il botto Perché siamo passati a 2750 A 6477 Un incremento di quasi Quattromila visualizzazioni Ed è allucinante Però purtroppo rimane sempre quel problema Io sto vedendo anche solo l'incremento E purtroppo la puntata 2 sale sempre della metà rispetto alla puntata 1 Questo vuol dire che continua questo problema Che a me dispiace un sacco Che solo la metà di Solo poco meno della metà Di chi guarda la prima puntata Poi continua la serie Con la seconda Ok, secondo posto rimane 07.2 Update 2.90 Eravamo a 7500 Più o meno Adesso siamo a 7500 Ma che davvero? No, aspetta, ho sbagliato Adesso siamo a 9380 Quindi anche qua un grosso guadagno Però non salirà più tanto questo video Un update ormai è fatto Ormai è difficile che mo' a caso qualcuno si metta a vedere quel video Primo video rimane sempre 07.4 Stoico All Secrets La guida E passa da 14.686 A 17.496 visualizzazioni Un incremento di quasi 3.000 visualizzazioni Secondo me si fermerà qua Cioè questo video non credo che andrà oltre i 20.000 Questo perché l'ho fatto una settimana dopo l'uscita di Serious Sam 4 Quindi è stato parecchio digitato Serious Sam Tutti i segreti Nella ricerca E comparivo io Perché sono stato abbastanza veloce a farlo E beh allora Cosa ne deduco Da questo resoconto Innanzitutto che Solo nell'estate Ho Più che raddoppiato gli iscritti E la cosa che mi interessa a me sono gli iscritti E sono molto curioso di sapere il prossimo resoconto Perché sto iniziando adesso a implementare qualche tecnica un po' più tryhard Non mi aspettavo tutta questa salita Sono contento che un altro episodio di Terraria sia entrato nella top 5 dei miei video più visti Bene 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 Ragazzi ci sentiamo sabato prossimo credo E per quanto riguarda le live No queste cose le dico nella Allora Vi svelo un serio Sto registrando Prima il resoconto dei 200 video Che va al 2 ottobre E tra 7 minuti Cioè finisco di registrare Inizio a registrare ottobre 2021 con Serious Samaro Quindi Che va il giorno prima È stato obbligato Quindi Time confusing Però Anzi adesso faccio un trick E mi taglio la barba Così Nel video del primo ottobre Sembra che Tra il primo e il secondo ottobre Mi sia cresciuta la barba Sì